Ciao a tutti, bentornati su The Games Bruyo, sono Roy Lovat e oggi siamo di nuovo alle prese con Terminator Dark Fate Defiance Siamo usciti praticamente da quello che era l'introduzione barra tutorial e adesso dobbiamo iniziare proprio a esplorare la mappa E ci troviamo infatti nella fase pre-missione dove dobbiamo scegliere chi portare con noi Come vedete potremmo portare anche un veicolo, ma in questo caso non li abbiamo perché nell'ultima missione abbiamo dovuto lasciare tutto Alle spalle nella base che può saltare in aria, quindi possiamo portare solo 4 unità di fanteria e quindi dobbiamo decidere chi portare Sicuramente questi, poi direi questi qua sono importanti perché sono gli unici che possono guidare anche i veicoli Quindi non dobbiamo portare i piloti e poi io direi della fanteria normale, questi che sono un po' più avanti Non possiamo portare altro, guardate che belli Io direi questi, questi sono tutti abbastanza potenti Non hanno il lanciagranate, l'anticarro loro Però hanno il lanciagranate, quindi non so se in realtà convenga tipo invece portare un'altra unità di fanteria Perché loro sì che hanno il lanciarazzi Vabbè che ci abbiamo anche loro, quindi il fatto è che con loro possiamo guidare i mezzi con gli altri O prendere le torrette se ci fossero Sì, direi che andiamo così, ok Ok, nuova mappa, bella anche questa per adesso, non conosciamo il territorio, molto fico Si stanno sparando Sì, si picchiano Ho messo solo uno le granate perché non le vorrei spregare Uh, mezzi Ah, ci sono le formazioni, attenzione, mica l'avevo vista Che veicoli, questo mi sembra troppo aggressivo Abbiamo bisogno di alleati Ma non è vostro I movers Ma chi sa i movers Ecco, stanno pure qua Il criminale logale Balzano Ma c'è un grande affé around here People around here had a tough time surviving before he arrived and started organizing things Organizing? You know, dude came in with his man and all the guns and now he runs things here Taxes us by getting us to give him supplies and stuff salvaged from the field The field? Yeah Years ago there was this big ass fight against the cromes Lots of good stuff left there But you gotta watch out for the minefields Cromes Must mean wireheads That's an old judgment day battlefield And this Balzano got these dopes looting it for him Balzano's the guy around here Smart thing is to join up with him Better than going with them movers Probabilmente c'è un campo di battaglia dove ci sono dei resti Che immagino sia questo che ci ha segnato quassù C'è Balzano che ha organizzato le cose qui Ha riportato un po' di controllo ma è un criminale E poi ci sono i movers Gente che combatte legion For the good of the human race and stuff like that People here don't like it much They show up and people figure that means the cromes are gonna come looking for them Balzano says to leave them alone At least until Legion shows up Then we can show the cromes we're on their side and not the movers Don't let us go now bro La gente ovviamente ha dei movers perché pensano gattirino Legion Finisce un accampamento Un villaggio C'è un nascondigli sotterranei Non let us go now bro I only got one question for you What are you going to do with that vehicle? Just wanted to try to get it going But it's busted up So we were just going to scavenge what we could get from it Ok niente non lo usano perché è tutto rovinato Noi possiamo prenderlo Yes vedi Le ruote non stanno messe benissimo Ah c'è anche un po' di munizioni The freak Non stregare radios di loro Eh pure i corazzati Bene Uno solo ne rimane fuori Ma che sfiga Questi sono i mezzi che abbiamo preso La baracca 2000 Allora scopri chi sta combattendo contro Legion Che è tipo qui Dovremo scegliere Anche qui questa è una posizione bella difensibile Andiamo qua Dalla scorta al presidente Avanti avanti Andiamo da lì Andiamo a vedere se Anche perché sono tre case Insieme a te lancia razzi qui Ecco tu magari vai avanti Alla macchinina Che se ci fanno saltare la macchinina Ci muore tutta la gente che sta dentro No c'è qualcuno Kondo Non sei di qua Allora che ci fai qua Sta cercando la moglie No ci fa vedere la foto Ma non l'abbiamo vista Non ho mai trovato il corpo di lei E ho sentito la storia appunto Di trasporti di Legion Che portano prigionieri al nord Ha scoperto che Legion sta per venire qua Per cercare altri prigionieri E si sta preparando Preparando come? Ho messo microcamere Si dice che Se attacca Legion Saprà e sapremo dove E ha un piano Comunque lo combatti Non ti preoccupare Ha un piano Se vuoi vendicarti di Legion Unisciti a noi No però ci dà accesso Sul sistema Ok lì c'è Legion Lì c'è un mega camion Di Legion Lì c'è un altro mega camion Ah e noi siamo appena arrivati qua Ok Voto di gente Non pensi che Non pensi che Legion Possa Scoprire il tuo sistema Di sorveglianza Guarda l'antisa No perché il suo sistema Cambia frequenza A rotazione Un po' come il phaser Contro Borg Sai dove potremmo prendere Delle risorse Qui intorno? Ha detto che Balzano Lo controlla Il campo di battaglia E c'è campo minato L'anziano vive sulla collina Sarà questo Il movimento Saranno i movers Sì Chi è Balzano? Criminale infatti Cosa sai dei locali? Dice che il meccanico Harry Nasconde qualcosa Sotto la sua ufficina Ok allora Siccome lì A quanto pare C'era il nemico Io direi scendiamo Grazie Perché qui davvero Appena ci pigliano Schiattiamola grandissima Allora io Andiamo in mezzo Alle fratte No non siamo scavengers Grazie a te Bello sto camion Ah movers Oh no Arrivano Combatteremo con voi C'è Manju C'è Manju Take cover Guarda cover On the move Yes sir Affirmative Onward We'll blow in the hell Enemy sighted Target spotted Hit him Quick and hard Gotta fix on the enemy Setting up a missile site All yours gunner Take this And this Another bunch of scavenger assholes Open fire Got that Wait what Ready In position Thanks for the assess Those crumbs didn't know what hit him Who'd you say you were with? The founders We're heading south And looking for resupply points Can you help? We've just moved into the area And we're still getting a foothold here We got hit by a chrome ambush And have damaged vehicles to defend Longer we're here though Quick and legion will find us Could just abandon the vehicles And get out of here I guess so Hey leaving them for the scavengers though Well Ma che razza d'ore Perché è diventata rossa? Si voglio parlare col vo- Perché stiamo sparando a loro? The freak Perché elimina le truppe del movimento? What the hell? Ma è buggata la missione? Aspetta un attimo Beh ho ricaricato perché non ho capito sta cosa Scusa Perché ci ha fatto sparare contro i loro Se li abbiamo aiutati? Proviamo a non sparare Allora Ci chiamo di mettere quello per non sparare Ambush? No Shield ambush Sword offensive mode Sword and shield default mode Squadra attaccherà il nemico nel range Shield solo quando è vicino Sword offensiva No Io voglio mettere che non Non sparino Stop Cattura Fumo Ma sta roba non l'ho capita eh Beh andiamo bene Come se è buggata già la prima missione Si è buggata già la prima missione On our feet We're here Setting up a missile site In position ATGM squad in position Infantry room Affirmative Sir yes sir ATGM relocated Anti tag support in bout Perché parliamo con lui L'abbiamo visto Li combatteremo con voi Oppure andiamoci No combatteremo con voi Facciamo così scusa Forse li ho colpiti Senza volere Ok sì evidentemente Non è buggata Ma c'è Una qualche sorta Di fuoco amico che non abbiamo preso In considerazione perché scusa Stavo sparando a loro Come diavolo è successa Sta roba Allora questo lo prendiamo Perché c'ha la mitragliatrice E ci serve questo Non ho idea di che cosa sia in realtà Però è un camione Eppure corazzato Allora Alcuni veicoli possono Trasportare rimorchi Di varie classi Alcuni ovviamente Elementi più pesanti Altri elementi più leggeri Vabbè dice come attaccarli Come attaccarli E staccarli Il trailer Si stacca in automatico Se attivi la modalità Di rifornimento Ok Andiamo qua Vai ribarate Ottimo Ribara E questo è un problema Questo qua Del fuoco amico Perché Che cavolo Oh jesus Via 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 Qui c'era la torretta Dovamo prendere Ok Cerchiamo di non attirare Tutti i nemici Magari Aspetta un attimo Vorrei andare a prendere Quella torretta lì Perché dobbiamo prendere Tutta la roba Possibile Non sprecare Altre cose C'ha un po' di munizioni Lui Giù Giù Cerchiamo di non perdere Nessuno Distrutti Ok Sì Allora Adesso dovremmo Prendere questo Se fosse possibile Ma Uh Qui c'è una mitragliatrice Che possiamo prendere Yes Ma loro Non la possono prendere Voi Neanche Voi Ma Questa è una simpatica gag O la possiamo prendere davvero Vai Corri Veloce 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 Viglia sta roba Eeeh Oh fuggo Oh fuggo Rapido 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 Vai Vai Via 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 Ok 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 Qualcosa Non si è mosso Bene Voi salite qui Voi salite qui Voi aggiustate E voi Ok Ah qui dobbiamo stare attenti e curare entrambi bella la torrettina ok salviamo grazie e adesso avanziamo andiamo qui che c'è il primo punto di interesse qua su che è il vecchio perché diceva che stava sulla collina qua giù c'è un botto di gente con sti canazzi qui c'è questo in realtà dovremmo essere in grado di farlo fuori hello qualcuno molto a la comandos si a la comandos a la comandos no non siamo al servizio di Maldrano no neanche con Movers Maldrano says we're not allowed to talk to you please go away before he finds out you're here we're not with the movement we just need a resupply can you help us? the only people with supplies are Balzano and Movers he just takes from us and won't let us talk to them and then there's that legion base here that's why we're hiding underground and starving but at least we're still alive there's a legion outpost here? to the south in the ruins we have people hiding there trapped but no one will help us we can help you we've got some young bucks here willing to fight but no weapons it's those movers stirring up trouble and convincing people they can fight legion you should fight legion but not without weapons so who does have weapons? try that dealer here Balzano uses him to fence salvage from the field but they had a big falling out talk to him do you have radio? here take these ones that crazy guy condo gives them out he says legion can't track them or listen in ok hanno della gente intrappolata qui dobbiamo andare a salvare c'è un contrabbandiere uno che c'ha le armi e poi dobbiamo andare a parlare andiamo a parlare prima o questo bello che devi creare i convogli e devi scegliere che portare con te perché appunto la gente che può pilotare è veramente poca fortunatamente queste unità di rangers sono in grado di prendere torrette veicoli perché se no ciao perché le altre non son potenti cioè i un po' ingegneri si soprattutto sono utili ma tipo i piloti e basta no questo gli da la canna in testa vedrete mi pare un ottimo percorso questo allora qui c'è sia il meccanico che il trafficante da armi hello salviamo che vestito da messicano ha litigato con balzano che vuoi un cambio di armi oh ce l'abbiamo vuole un nuovo pulmino ce l'abbiamo un nuovo pulmino non questo rangers lead the way get the van to the dealer aspetta eh aspetta eh go guys non mi ricordo mai eh t è sinistro t è destro ah no è automatico non c'è quello vai avanti e spara è questo q e q è sinistro ok si invece eh tipo muovi e spara ho sentito i colpi pensavo fossero i nostri dove stanno andando? hanno fatto questo altro giro perchè? perchè ho cliccato io male è qui che devono andare dai qua prende il pulmino sono tutte missioni secondarie tra l'altro quello che io non so è se io debba cercare delle risorse anche sul territorio perchè non c'è un pulsante che illumina la roba con cui possiamo interagire quindi questi questi dove stanno andando? perchè qui ci sono loro qui c'è tipo un passaggio una stradina secondo? il problema è che qui ci hanno uno due parca miseria abbiamo tre razzi allora prendiamo sto coso le unità sono bellissime proprio ok let's go quindi qui bisogna fare proprio attenzione a non perdere niente perchè tutto ciò che perdete praticamente non è rimpiazzabile quindi non solo dobbiamo scegliere che cosa portare o che cosa recuperare cioè ma dobbiamo stare anche attenti poi a non perderlo e come avete visto i mezzi non è che siano e come le unità non è che siano proprio estremamente resistenti questa è vestita da panciovilla non so perchè questa è vestita da tedesco ok salve rangers si dove sono le armi ok dice che sta nella cassa dietro le armi stanno nella cassa dietro la casa vediamo ho le armi per le persone prendiamo questi fatti con te allora non voglio nulla con loro ciò che farà solo causare problemi con la legione o la balzano ottimo uuuu e chi è? e questi chissà che forza tipo ma che c'hanno sulle spalle tipo miliziani 16 yes uh conviene proprio fare le missioni secondarie i nostri ce ne hanno tipo 6 di razzetti figo tucker ok andiamo a parlare col meccanico ah anche questi ci sono questi sono proprio miliziani che hanno solo i mitra però va bene va bene questa è una prima linea è meglio che prendano danno loro che le nostre unità poi sono un stacco andiamo qui qua possono pilotare pure? uh possono pure piluta pilutare possono pure pilutare più pilutare per tutti possono pure pilotare ottimo solo loro però quelli con il lanciarazzi non si sa perché salve che cosa ha nascosto sotto l'officina? hello che cosa ha nascosto? ranger in posizione ranger in posizione ranger in posizione ranger ranger reportare hey there ah great more scavengers ci hanno detto che sei un meccanico e che hai qualcosa nascosto sotto no non siamo razziatori no ma è quello che i scavengers sempre dicono continui a ranger uh cosa che fa? hey there ah great ho detto che sei un meccanico ovviamente dice di non sapere niente allora prendiamo questo thank you poi qua poi qua andiamo a parlare con i movers dico che ci siano così tante missioni qua c'è il campo di battaglia mi hanno detto vedi c'è anche l'armatura ci hanno detto che tutto pieno di mine ci siamo? non ci siamo scusa non c'è più spazio qua dentro infatti che pareva strano go chiusi pנסo gatta non brontolare eventualmente ma dovrebbero essere amichevoli perchè li abbiamo aiutati e hanno anche dei nuovi mezzi oh che cos'è questo? su shirt MC Mac ha detto Che avrebbe detto al comandante Che siamo amici Ok possiamo entrare Scherzi a parte questo è supply Quindi non c'è supply ma c'ha le risorse E qui c'hanno altri mezzi Allora io direi Visto che a quanto bare qui c'è sempre Cassino Io Allora qui potrebbero anche Facciamo di questi Li mettiamo qua Che non mi fido Mettete tutti qua Perché qui o ci diranno Ok ci uniamo a voi O succederà qualche Cassino Per cui dovremmo aiutarli a difendere la base Ragion per cui direi Ok grazie Noi ci mettiamo qui E facciamo uscire Un'unità soltanto Allora Facciamo uscire I ranger Voglio pure vedere che cosa succede All'aumentare di livello Comunque è molto particolare Questo gioco Direi che Mi sta piacendo non poco Perché è ragionato Non è Avanti avanti Spara spara Spona unità All'infinito No devi stare proprio attento Infatti meno male che hanno messo la pausa Perché secondo me Senza pausa Sarebbe stato veramente un casino Il nostro gioco E qui sono parecchie Allora per sicurezza Facciamo così Disattiviamo tutto Grazie E infatti uniamoci Allora Beh, non è una brutta posizione da difendere. Non c'è solo reclute. Allora, l'anziano locale vuole attaccare e distruggere l'avamposto di legione qui vicino. Il nostro obiettivo è questo perché l'altro dice non l'abbiamo. Un obiettivo. Il nostro obiettivo vuole attaccare. Ok. E vai. Non è sicuro che dovremmo prendere l'esperienza militare da queste persone. Ne hanno tutto quello che possono avere. Deve essere mantenuto forti, signor. È tutto che importa. Eh, infatti per adesso. Ok, allora, abbiamo preso questo. Che è nuovo. Aggiustati. Ha detto che ci avrebbero aiutati. Ma... How. Tra l'altro, sto coso rosso non vorrebbe dire che è rotto. Ah, fammi vedere. Possiamo prendere altra roba qui? Perché questo è neutrale. E prende da... Munizioni, in teoria. A me è una cosa, perché questo qua invece è semplicemente un... Un robo... Rinforzato. A me è una cosa. Stacca. Eh, possiamo prendere questo. Salviamo. Non stiamo mai che prendendo questo scatti qualcosa. A questo qui che cos'è? Questa è benzina. Fuel. E questa non la possiamo prendere? Neutrale, però dice. Scusa. Hmm. Rangers, qui. Vediamo, adesso magari esplode tutto. Quindi adesso tante volte loro possano prendere quell'altro. No. Ok, il problema è che così facendo però non possiamo trasportare tutti. Mo, io quello che non so è se dopo... Cioè, ci convenga prenderlo adesso o dopo? Perché magari... Dopo c'è qualche cutscene che ci frega. Hmm. Vabbè, allora prendiamo questo adesso, va. Staccalo. Ah, che tra l'altro aspetta, aspetta un attimo. Ci serve... Ecco, mi servi te. Ah no, ci abbiamo ancora quattro munizioni, ok. Vai, piglia questo. Poi salite. Ci abbiamo anche questo qui che è nuovo. Un attimo. Saliamo tutti. Go, 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 go. Ok. Mettiamoci in movimento, andiamo da sta parte. Questa è carina, eh. Allora, fammi vedere. Voi si stanno qua. Io direi... Mazza, stanno così vicini? Ok. Questo è un pazzito. Vai qua. Vai qua. Arrivano. Sì, 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 sì. Oh, arrivano. Allora, io direi... Cerchiamo di attirarli da sta parte e lanciarazzi da quest'altra. Allora, fuori, 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 fuori. Poi, andate qua. Allora, qui. Ranger, squint. Ranger, squint. Allora, vediamo se riusciamo ad attirarle. Allora, l'idea è attirarli qua. Oddio, non c'è più. È sparito. Attirare quello grosso qui in modo da farlo fuori con lanciarazzi. Vediamo se con loro riusciamo a... Un momento. Dov'è l'unità loro con lanciarazzi? Ah, sta su... Sulla camionetta. Poi, in realtà, aspetta. Mi sa che è meglio fare cos'è. Che questo è un attimo più veloce. Che vengono qua, voi sdraiati. Uh, sono due. Ok, allora, te. Vai. Uh, come spara la dorretta, ti è. Vai, 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 lanciarazzi. Vai, lanciarazzi. Fuoco? Incoming! Boom. Vai fuori anche questo. Vai fuori anche questo. Guarda. Milizio. Milizio. Irons cover. Milizio. Milizio. Rangers. Rangers leading away. You have enemy sighted. Ready for the... cazzo arriva hello ora qui hehehe boom bitch adesso entrava dentro oi qua oh lei ce l'abbiamo fatta benzina gratis e lì Harry c'ha qualche ah il fratello dobbiamo andare a parlare con Harry ottimo salviamo allora lo so che le unità erano poche e quindi è stato facile pianificare però ah maledizione arrivano eh lo sappiamo che prendono i regionieri no allora ce ne dobbiamo andare immediatamente allora voi venite a pilotare sto coso vai qua qua e voi andate qua giù e voi prendete la torretta ok il punto vi ritrovo è lì da Harry arrivano 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 nasconditi what vuole farsi prendere da prigioniero in modo che lo possiamo seguire così scopre così scopre perché prendono i regionieri si d'altronde lui lo vuole fare per scoprire cos'è successa la moglie allora puoi nasconderti nel campo di battaglia o trovare un altro punto allora intanto andate qui allora camo e camuflaggio e visione tutte le unità hanno il loro range visivo e un camuflaggio più alto il camuflamento più sono difficili da da identificare da parte del nemico però ovviamente se si muovono vengono intercettate sdraiandosi è ancora più difficile essere rintracciate quando c'è la modalità dell'occhio vuol dire che siamo in modalità imboscata ok chi è questo? no abbiamo un piano allora se li prendiamo con noi non possiamo abbandonare la regione senza combattere legion però io voglio fare quello che ha detto il ragazzo perché con il ragazzo possiamo scoprire che diavolo sta sta succedendo facciamo questo il fatto è che non so se sia la stessa cosa capito? quello è il problema dovrebbe essere spiegato un po' meglio nel senso se io li prendo con me funziona comunque il piano di condo cioè non c'è scritto uno oh oh capito? quindi è difficile capire che diavolo fare in questo senso ok allora adesso venire qua dobbiamo prendere questo arrivano ok tua sorella abbiamo salvato tua sorella ci ha detto di dirti che sta bene non c'è No, 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 no. Ok. You've got an underground elevator. Is there a secret hideout down there? It's a garage for what I got hidden down there. I built it from stuff called Zara and take it from the field. Wait till you see it. It's beautiful. Is it a vehicle? Something we could use against Legion? You want it? Take it. Use it against the Chromes if they're gonna try and hurt my sis. Here, let me bring it up on the elevator. What about you? I can help here. Ok, lui rimane qui ad aiutare la gente. Ok, che c'ha? Vediamo un po'. Uh. Dove stanno quelli che possono pilotare? Qua dentro, no? O li ho messi tutti nell'altra? Stanno nella torretta, fuori. Ok, allora, adesso venite qua. Via, perché dice che ci dobbiamo nascondere. Lascia questo. Prendi questo. Tutti fuori. Ah, questo lo possiamo prendere. Allora, cerchiamo di spostarci. Quassù c'è un passaggio. Troppo non ci sono altri veicoli, vero? Quanto pare, no. Tocca andare a piedi. Eh, lo so che ci dobbiamo nascondere, ma dobbiamo arrivare laggiù. ATGF, rilocati. Lieutenant, io sto facendo la trasmission. No, non interagio con la prescrizione del legion. Se tu fai, la probabilità è che ii abbandonati l'operazione, solo uccidere tutti e andare a andare a un altro area. E non aprenderemo. Potete vedere questo? All the locals legion ha trovato? Desserti, ci vogliono tutti. Eh, sbrigatevi perché sta arrivando gente qua, eh. Sti cani. Ah, ma dobbiamo attaccare? Destroi... Ah, distruggi varie unità. Attacca, non attacca, attacca, riattacca. Che cavolo. Allora, aspetta. Qua giù. Qua giù c'è un po' di gente. Vai. Vai. Qua giù c'è un po' di gente. Mi stanno caricando. Ok, ce l'abbiamo fatta. Che fireworks? Ma non ha detto che continuo a stacca con loro, no? Una carica EMP, elettrica. Vuole riprogrammarli. Che diavola ha fatto? Oltre a tutti. Un po' di gente. Un po' di gente. Secondo, spider. Il tank è revu... Oh, signore. Posizione difensiva. Posizione difensiva. Quinti? E che dobbiamo fare? Si stanno picchiando tra di loro Tutti ad Alburquique Eh fate via 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 Mo non mi di che dobbiamo andare a recuperare lui laggiù Oh no Shoot Possiamo liberare l'area E immagino che ci dia più roba se liberiamo l'area vero? Un'altra missione Abbiamo otto missioni Si ma guarda dove stai Voi dovete muovervi Dobbiamo andare a sconfiggere Legion ovunque Andiamo a recuperare prima con la gente Affagio Fuoco fuoco Un'altra missione Invite Si Torget Spotted ATGM deployed ASTGM report Target destroyed ATGM squad reporting Speriamo già Dobbiamo andare a prendere questi Questo qua purtroppo Non può combattere Possiamo andare più lenti Che non so se Quello che otteniamo è quello che ci portiamo dietro O Tipo Una volta ripulita la mappa Tutto ciò che rimane sulla mappa diventa nostro Boh non è spiegato benissimo Allora qui arriva un sacco di gente Quindi direi che è tipo Una buona idea posizionarsi qui Tu vieni con noi perché non sia mai che poi ti attaccassi Dobbiamo creare una zona qui Perché sta arrivando veramente la qualunque Ok qui Eh vi dovete sbrigare Ah è qua Allora Puglia sta gente dai Sì, 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 sì Sì, ho lato di qualcosa Target's in range Contact Target spotted Ready, get me there Enemy is coming Everyone in I hope you've got it, we can do that Yes, sì, one word We'll blow in the hell Hats out spotted E ovviamente questi non riescono a salire su quello Ma vaffa Dai, dai Oh signore Ok, vai qua Chi c'è rimasto Va giù, c'è uno di quelli Ok, lancia razzo Davvero si sta qua dentro Lancia razzi Io veramente non ho capito la linea di tiro di questo Perché non lo vede Anche tag support inbound ATGF relocating Spide cover On our feet On the move ATGF relocating Anche tag support inbound Ok Once legion leaves the area It'll be safe to come out Good luck Isn't that semplish, eh? Get me there Ok Ok On our feet On the move Wireheads are using our old damn tanks Nah, I'm good It's not moving I don't know Have they run out of fuel? Or it's a wirehead trap to get us in range Allora, intanto Poi Non la salviamo Mina prende Le munizioni Questo chi è? Non altro Questi walker Tu hai bisogno Delle munizioni Che saranno ricaricate? No Dobbiamo fare ogni volta così Ok Allora, adesso dobbiamo andare a far saltare quello Sperando che non ci sia nessuno Voi andate con loro, va Infantry moving Infantry squad ready ACGM relocating Rolling We'll be there Reporting Target acquired Confirmed Sir, yes sir Reporting ACGM relocating Che giro fa? Fuoco Spara! Spara! Ma perché cacchio non lo vedono? Se lui spara a noi Perché noi non possiamo sparare a noi Lui ACGM relocating Two target sighted Ready to move Here to One word Won't blow him to hell Ready to go sir We are taking fire Affirmative Got company Non ho capito veramente sta cosa del campo visivo Dei nostri Dei nostri uomini Di qua No a quanto pare non riusciamo a farli fuori Neanche con 27 cose Affirmative Infantry moving We're going in Reporting Allora adesso col cecchino Potremmo potremmo cercare di prendere uno dei loro mezzi Purtroppo abbiamo perso uno con Con lanciarazzi Oh porca miseria Checchino 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 Sintu condo Ready to go Stop Target's in range Anti tank support What are our orders sir Ranger Moving there Going on Sit down Get moving squad Moving there Me la fai con sto razzo E' riuscito a tirarlo dentro la casa Mamma mia Mamma mia Incredibile Che pippa E tu hai lasciato il trailer lì Oh regà Veramente siete uno più rincoglionito All'altro Sì Condo Stavo veramente molto utile Sì Condo Stavo veramente molto utile Let's move On squad Under pressure One word Won't blow in the helm Passy tank On a mobile Get in position Where are you Ready In position Got it coming Ready for target Arrivano l'altra parte Anti tank support ACGF relocating Let's move Rangers reporting Rangers ahead Got company In there Reverse Three words back down Cacchio c'ha Nei Gatlin Si a quanto pare si Mi piacere Sito 80 contro due unità Oh che cacchio arriva qua su Un altro di questi ATGM squad reporting Don't need to tell us twice They won't stop us for long Enemy ahead On our feet Got a fix on the enemy Rangers reporting Affirmative ACGM relocating On a mobile Enemy sighted Going all the way Target eliminated Target eliminated Target eliminated Target acquired Target acquired That was what you need We'll be there Reporting Enemy location acquired Nein Borde Inveil Moving there Out of ammo sir Hostile unit Eliminated Action tank On a mobile Infantry attack In position Rejected Rangers here Ma sta cosa è veramente una rogna Dove ogni volta Monta rismonta Monta rismonta Sto coso Chi c'è qua Verrebbe solo questi Che sarebbe molto positivo Però boh Abbiamo finito Ha finito le munizioni Aspetta lui però ce l'aveva Teoria Vediamo un po' 3 Basta Solo 3 Solo 3 Allora Vediamo di qua sotto Che c'è va Condo 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 Figlia la benzina perché secondo me quel carro armato ha bisogno di benzina come ha detto lui Possiamo incastrarci . Infotri, sì, sì. Get moving squad. Need something. Going all the way. Got it. Penny van ready. Moving. Took another key position off him. Eh? Going all the way. Qui che c'è, un altro bel camion, qui arriva qualcuno Avanziamo, avanziamo Oh, via, 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 via Che cacchio c'è, via, 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 via La telecamera è partita a cacchio Troppa loro Mamma mia Abbiamo rischiato tantissimo Ok, nuovo piano Da oggi in poi Ma andiamo avanti solo i cecchini Oh, via, 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 via Ready for launch Abbiamo più due razzi Mamma mia Non posso immaginare cosa sia questo gioco a difficoltà estrema Sono abbastanza sicuro di aver detto a loro di andare qui Sarà una trappola? Che vuol dire quest'area? E se esplode? Ok, aspettiamo che cecchini Ok Arriva un altro Tu vieni qua, vieni qua, vieni qua Che si inizia a muovere quell'altro Lo devi prendere? Non sprecare il razzo Dai, 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 dai Che va uno all'ora A parte che abbiamo anche loro in realtà Ok Qui che c'è? Questi qua Eh, facciamo uscire questi? Grazie Giustamente C'erano questi Usiamo E che non so quanto devo proteggere la roba Questa è una trappola Vediamo un po' salta in aria adesso Apparentemente no Ok Eeeh No No Non mi dì che senza piloti non No Non mi dire Che solo i piloti possono prendere il carro Ma questo è un tecnico Ok Lui non può prendere sta roba Fantastico Vediamo i ranger Eh, no Che sfiga No, vabbè Se non posso prendere questi È veramente una sfiga enorme Allora, vabbè Allora, vabbè Allora, vabbè Allora, vabbè Enemy forces I need to get out of here Bad trouble coming I'm bad now We see them Terminale Tell us we can't move in team Load up Unit reporting Hold on to something Pass out spotted Four, in the Spotted one We'll be there Move it Let's move Range is reporting There we go We're done here This area is cleared of legion forces Questo carro Siamo a interesse al carro armato Adesso vediamo se vale la pena Non ce lo siamo neanche Nefilato lui Area exit Io voglio Che si fa, chissà Uh, piloti Piloti Yes Yes, please Qui Eh, queste Che sono arrivati tutti qua Salviamo Perché magari ha detto Che non c'è più nessuno Ma adesso saltano tutti in aria Affirmative Moving there Reporting Get us where we need it In position Possiamo prendere queste armi Scusa No, no, no Tra l'altro che è Una, una Gatlin No, vediamo se è loro No, manco loro No, manco loro Voi No Lei è una carrista Lei è una carrista Quindi dovrebbe prenderlo Yes Yes Labrams Fico Oh, e adesso Un'altra cosa che dobbiamo fare In realtà Aspetta Tu prendi questo Qua su c'era Anche un'altra torretta Vai a prendere questa E vorrei prendere anche questo qua su Ma non c'abbiamo altri camion Questa è in realtà Delle munizioni Quindi Boh Si è a bordo del mezzo Come non c'è la benzina Quindi facciamo così C'abbiamo altri mezzi che possiamo prendere Eh, no Niente, niente Questi sono pilodi ma Possono pilodi Niente Non c'è niente Qui Non c'è niente Qui Qui c'era un camion Ma se lo so portare via Questo No No, no, no Sarebbe bello se Li segnassero tipo Questo Questo possiamo andare a prendere Eh, possiamo andare a vedere Tant unit Awaiting order Rangers reporting Rangers Yes, sir What do you need? Moving Ready Got it Refer Drivers reporting, sir Move quick Ready to drop Move quick Moving there Hey, Belzano Hey, Belzano Where are you? You there? We got your message This better not be one of you dumb jokes You son of a bitch He ain't here Let's see what happened here Belzano will kill us Got a vehicle for us here If we let anyone into his field Open fire at anyone who comes close On our feet, move quick Belzano's people Defending his precious field Just more scavengers scumming out Allora, voi andate qua Oh signore, e mo' che c'è? Cosa gente? Ah, perchè potremmo andare a prendere la roba qui? Eh, allora mo' ci andiamo Aspetta un attimo Voi andate qui Ah, non c'è neanche Una munizione, però Molto feco Con chi si stanno picchiando? Uh, c'è questo Il Bradley Eh, il Bradley lo dobbiamo prendere In qualche modo Non so come Allora Eh, vediamoci tutti qua Nooo Piglia sta roba Ammazzo Manco uno Allora Say something When we get there I was what you need Who'll be there Chicken Hold on to something ATGM here, sir But the squad's gone Rangers, Rangers Rangers ahead Rangers reporting Yes, sir Chicken No, proprio niente Proviamo, andiamo a vedere We won't fail Made it Made it Got it Ready, in position No, questi sono mezzi morti Ready to go, sir Rangers lead the way We're going in We'll do what's needed Relocating Pick up ready Rangers Rangers lead the way Infantry reporting Confirmed Chi era? Oh, Kondo C'ha tipo il fucile laser Eh sì, vedi Ok, occhio perché qui ci potrebbero essere delle mine Uno, due Dov'è quello Technical Vai, esci Puoi prendere sta roba C'è questo Questo che è Fuel Qui c'è un camion Questo non lo possiamo aggiustare in qualche modo Abbandonato No Yes Possiamo prenderlo Ottimo Allora Siamo riusciti a prendere il Bradley Il camion con la benzina Ma ce ne abbiamo due Ma in realtà c'era pure Un APC Qui E un ANV Che sta arrivando veramente a due all'ora Perché è super danneggiato E il tecnico Non credo sia la stessa roba del geniere Perché non ha visto mezza mina E quindi è saltata in area Questo E questo Non li prendo Perché appunto ci sono le mine E non c'è verso di Vederle a quanto pare Quindi c'è il rischio di morire E non mi pare il caso Anche perché i feriti poi tocca Curarli E adesso dobbiamo andare qua giù Ok Ce l'abbiamo quasi fatta Dai ANV Allora decisamente Anche adesso In questa ritirata Ho visto che i mezzi Soprattutto quelli articolati Non prendono benissimo I I comandi C'è stato un momento In cui due camion Che non avevano nulla intorno Si sono messi a Scontrarsi l'uno contro l'altro Mh Abbiamo perso sette unità Ci aiutano a trovare reglute We gotta be careful From now on T-Force ain't big But we still burn through supplies Especially depending On what kind of units We got Takes a couple days To get from one place To another Gotta make sure We got the supplies To get where we wanna go If we need to We can disband Infantry squads And move them to the reserve Can disassemble vehicles too Use them for resources Worst comes to worst We can cut loose people From the reserves You're in command You decide where we go And how we get there Got a plan a route Make sure we got least A day or two Extra supplies for the journey In case something goes wrong On the way Allora Che dice qua Location differenti Hanno opportunità differenti Per il tuo esercito Ciò viene dimostrato Sotto il nome della location Ok Quindi zone dove possiamo trovare Risorse, reclute, eccetera Ok Quando una squadra Ottiene esperienza Si sblocca Uno slot allenamento Nelle basi Nei villaggi Dove puoi allenare Le tue truppe Il primo slot Diventa arancione Quindi puoi mettere Una nuova abilità Cliccaci per scegliere Appunto in che cosa Allenare la tua unità Alcuni Settlements Che poi non è Come si chiama? Sì È tipo villaggi Tipo accampamenti Alcune zone Possiedono Degli shop Dove Dei negozi Dove puoi comprare E vendere le unità Ma anche armi E miglioramenti Ah quindi possiamo Migliorare anche Le armi Puoi comprare E installare I miglioramenti Per le armi Immediatamente Equipaggiandoli O Sull'unità O clic O trascinandoli Nell'inventario Ogni arma Che utilizzi Può essere Rimossa E venduta I miglioramenti Invece Non possono essere Rimorsi Rimossi Ma solo Rimpiazzati Ok L'altra cosa Che invece Mi piacerebbe Capire a me Che non è chiara È se Dobbiamo Portare via I camion Con la benzina E le munizioni Oppure Quelli servono Solo sulla mappa E se Fosse Necessario Portarli via Se sono vuoti Poi si ricaricano Boh Perché vedi Mo c'è questo No Non si è ricaricato Quindi allora Sì Dobbiamo portarli Con noi Per avere Poi La speranza Di trovare Un magazzino Dove Riempirli Perché vedi Questo Perché dice Che è senza benzina La benzina È massimo Ok La vediamo un po' Fanteria Chi è salito Di livello Ok Questo può lanciare Le MP E può fare La garage Loro Mi sa Sono saliti Di livello Cioè Questa Dobbiamo fare Restore Immediatamente Sì Possiamo Andare Così Ok Questi pure Hanno preso Un botto Di Schiaffi Ma forse Queste Le mandiamo Via No crew Resupply Refuel Back Allora qui In realtà Possiamo andare Solo ad Alborchichi E non c'è Altro da fare Quindi Nella prossima Missione Dovremmo andare Qui Dovremmo scegliere Chi portare Con noi Dobbiamo anche Capire Tra l'altro Quest Oddio Consumiamo Consumiamo 35.000 Risorse Al giorno Cioè È Un botto Ci abbiamo Risorse Per 5 giorni Quindi mi sa Che questi Ciao ciao Milizia Ciao Poi Solo L'afanteria Consuma Cibo O anche Mezzi Nel senso Ho bisogno Di queste Torrette Devo vedere Se tutto ciò Sia spiegato O meno Nel Nell'enciclopedia Del gioco Comunque Lo vedrò Off screen Vi farò sapere Nel prossimo episodio Se sia spiegato Tutto o meno Per oggi Terminiamo così Missione Lunghissima Piena zeppa Di cose Da fare A parte Il fatto Che a volte I mezzi Si incastrano E che Il range Visivo Dell'unità Non è sempre Chiarissimo Come avete visto Con lanciarazzi Per il resto Mi piace Però veramente Cioè Bisogna stare Non attenti Ma di più Che si perdono Unità In un batter d'occhio Bello 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 Mi piace Vedremo un po' Come continua E quanto diventerà Difficile Comunque Vi ricordo Che qui sotto Potete lasciare un commento Potete mettere Mi piace al video E iscrivervi Al canale Io sono Roy Lovat E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao Ciao